tempo umano concetto prono alla velocità e alla gravità gli esseri comuni lo chiamano 2024 ma noi sappiamo che esistono solo i blocchi e le epoche quattro epoche fa il rivoluzionario e scienziato satoshi nakamoto ha scoperto una nuova costante universale e la chiamata bitcoin da allora la time chain ha scandito inesorabile l'orizzonte degli eventi ha visto i potenti della terra tremare inabili al cospetto dell'ineluttabile le loro armi sbiadire al propagarsi di ogni transazione ciò che è stato non sarà mai più e la quinta epoca incombe sull'universo blocco 8 4 0 0 0 0 noi siamo i custodi del vero tempo le nostre clessidre sono gli hard drive dei nostri full node e i nuovi chronos sono i titani dell'ash rate state pronti i guardiani del tempo la nuova epoca e alle porte state pronti a liberare il potere delle vostre chiavi pronti a conoscere per determinare pronti a imparare con il sorriso insomma pronti alla sesta stagione del bitcoin italia podcast da un'idea di bruno liegi baston liegi con herbert ballerina rupert sciamenna e ivo avido a carnevale nei migliori cinema sigla a carnevale nei migliori cinema benvenuti amici ciao che attesa ragazzi ma hai sentito che roba sembrava maccio capatonda madonna mia maccio capatonda che che incontra christopher nolan c'è solo al big show ragazzi bentornato amico mio sesta stagione non riesco neanche a dirla come si dice sesta stagione come passa il tempo quando ci si diverte mamma mia ragazzi benvenuti bentornati anche a tutti voi all'ascolto ragazzi riparte il bitcoin italia podcast con una nuova stagione in questo anno pazzesco guy brush l'anno dell'alving siamo talmente vecchi amico mio che ne abbiamo già raccontato uno di alving sì è vero è vero quanti alving hai sarà una domanda del futuro esattamente e noi lo aspettiamo trepidamente perché è sempre un anno speciale per bitcoin per questo abbiamo voluto chiamare questa puntata i guardiani del tempo perché la time chain è la costante universale temporale ragazzi quindi tutti noi anche voi all'ascolto siamo a tutti gli effetti guardiani del vero tempo e quest'anno appunto finisce un'epoca e ne comincia l'altra no e ne comincia la prossima ogni 210 mila blocchi giusto guy brush così scrive satoshi nakamoto nel codice di bitcoin e pertanto ragazzi così è l'alving è quell'evento appunto che dimezza l'emissione di bitcoin che vengono dati come ricompensa ogni blocco ai miner quando risolvono la proof of work molti di quelli che ci stanno ascoltando già lo sanno molto bene ma ce ne saranno anche tanti di nuovi guy brush perché quest'anno è l'anno in cui arriverà tanta gente partono tutti dal primo episodio e quindi è giusto anche fare mamma mia che palle ragazzi complimenti a chi ci riesce è così caro mio caro mio no in realtà io intendevo partono tutti dal primo episodio della sesta stagione ah sì poi ovviamente come hai fatto giustamente notare tu se come magari avranno sentito nel nostro trailer se vogliono approfondire le le basi i fondamenti di bitcoin i nostri primi cinque episodi quelli della prima stagione quando eravamo giovanissimi ormai nel lontano 2019 sono quelli che raccontano le parti essenziali di bitcoin e quindi andatevi a recuperare quelle e poi venite con noi a fare festa qui alla sesta stagione perché tanto mica è necessario averle sentite tutte guy brush no 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 allora diciamo che quelle fondamentali sono meno del totale perché tante sono di attualità seguiamo l'evolversi degli eventi quelli in cui spieghiamo i massimi sistemi sono di meno però abbiamo in cantiere dei delle novità tante sorprese no spoiler è la sesta stagione ragazzi spariamo in alto senti guy brush mentre eravamo in iato come sempre succede abbiamo festeggiato il compleanno di bitcoin 3 gennaio sì esattamente esattamente 15 anni eh sì a me piace ripeterlo sempre perché questi sono dati fondamentali 3 gennaio del 2009 bitcoin e capricorno io lo dico perché è una nota tecnica che dal mio punto di vista è importante non ci avevo mai pensato ma se lo dico tutte le volte ma cosa succede perché io non sono esperto neanch'io però ce lo faranno sapere da casa che cosa significa il fatto che bitcoin e capricorno la nostra community ha celebrato a gran voce abbiamo visto post approfondimenti guy brush sul compleanno di bitcoin ma il 3 gennaio caro amico mio non è mica solo il compleanno di bitcoin sai c'è molto di più c'è di più colpo di scena che cosa e non è solo il compleanno di bitcoin è il compleanno anche del dimmelo bitcoin italia podcast incredibile autocelebrativi proprio noi decidemmo di mandare in onda il primo episodio il 3 gennaio 2019 il decimo compleanno di bitcoin esatto ma qui ti voglio guy brush perché è un po che io so questa cosa e ci ragiono ed è una cosa che non dice nessuno e anche quest'anno sono rimasto lì alla porta a vedere tutti i nostri colleghi che giustamente si sperticavano in citazioni genesis block day che chancellor on the brink eccetera eccetera buon compleanno bitcoin ma non ho visto nessuno che ha fatto notare una cosa che secondo me è una coincidenza talmente pazzesca da farmi dubitare che possa essere una coincidenza sai che cos'è in termini astronomici il 3 gennaio no ma ho paura a chiederti no no è una cosa serissima è una cosa serissima il 3 gennaio fammi pensare la felio il perielio è il perielio è il perielio il 3 gennaio è il perielio e quindi il momento in cui la nostra terra si trova più vicina al sole e quindi dove i raggi solari le radiazioni solari quindi l'energia colpiscono la terra con più intensità e noi sappiamo benissimo qual è il rapporto univoco che bitcoin ha con l'energia guy brush ci hai mai pensato ma tu no effettivamente no però dici che anche questo è fatto apposta da satoshi nakamoto io ormai non mi meraviglio più di niente io ormai guy brush non mi meraviglio più di niente a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che pensano questi qui sono due matti che rapporto a bitcoin con l'energia ebbene sì con la corrente elettrica bitcoin è rispetto pienamente rispettoso delle leggi della termodinamica quindi condensa energia nulla si crea nulla si distrugge e la trasforma in assoluta scarsità digitale molto interessante mi apre mi hai scoppiato una bolla nel cervello tra l'altro nel perielio la terra noi diciamo sempre che quando facciamo il nostro intervento su bitcoin energia diciamo sempre perché il sole la principale fonte di energia che ci invia ogni ora il quota 80 volte quello che serve e nel perielio effettivamente è il giorno in cui riceviamo la maggior quantità di energia dal sole guarda che se è una coincidenza è pazzesca è pazzesca cioè può essere che sia una coincidenza però guarda caso bitcoin è una batteria digitale e satoshi nakamoto lo avvia spreme on il giorno del perielio donna mi mi fai così inizio di sesta stagione adesso mi toccherà studiare tutta la la come si chiama la il moto della questione delle eccentricità del perielio cazzo non mi ricordo più niente tra l'altro comunque ragazzi se vi state chiedendo che cos'è questa cosa che stiamo dicendo bitcoin è green noi lo ripetiamo sempre anzi il nostro nuovo slogan lo voglio fare diventare un mantra quest'anno questa cosa gai sarà il mantra della sesta stagione perché ho sentito dire che ai massima lozzi sta sul cazzo la vera transizione green è bitcoin questo sarà uno dei mantra della la sesta stagione del bitcoin italia podcast ma sì perché lo sai come sono loro invece è così bitcoin incentiva la transizione verso le energie rinnovabili lo abbiamo dimostrato scientificamente non noi gli scienziati del mondo la dicono questa cosa se volete andarvi a recuperare gli episodi dove vi raccontiamo per filo e per segno perché bitcoin è green quarta stagione episodio 17 titolo bitcoin è green e ancora quinta stagione episodio 29 il riscatto dove ulteriormente descriviamo dei paper che dimostrano come non solo bitcoin non inquina ma bitcoin è la vera transizione green greta thunberg limoniamo tanto ormai è maggiorenne gai bros non ci possono più dire niente non ci possono più dire niente vabbè amico mio mentre eravamo in vacanza festeggiare le feste a bacchio con patate eccetera eccetera ancora ci tocca parlare etf sì etf no etf forse è successo un bordello ieri sera stavo morendo da ridere tra l'altro avevo fatto una pausa da internet di due tre ore ho detto vado a letto ho fatto l'errore di dire fammi andare a vedere cosa succede il circo toni il circo il circo toni fatto è finito ma proprio ma circo ma da fatto da istituzioni che diresti cazzo dovrebbero avere un po di credibilità e invece no cioè siamo proprio nel momento di euforia di casino in cui nessuno capisce più nulla anche i più insospettabili più quelli che di solito sono un pochino più seri no niente è una roba veramente disastrosa allora guy brush scopriamo scopriamo subito le nostre carte perché a questo punto ancora una volta chi ci sta sentendo ma questi qua sono per la prima volta sono fuori non ne parlano no non ne parliamo va bene noi siamo diversi da tutti gli altri che fanno divulgazione bitcoin noi abbiamo già parlato fino alla nausea di etf nell'ultima puntata della quinta stagione del 2023 non è cambiato nulla quindi se volete un'analisi andatevi a riprendere quell'episodio che si chiama proprio è arrivato lo spot etf battutona di guy brush mentre stiamo registrando questa puntata gli spot gli etf ancora non sono stati approvati probabilmente verranno approvati domani quando uscirà questo episodio noi registriamo il mercoledì ma fa niente perché il prezzo non conta gli etf non contano contano solo le tecnologie dei vari protocolli bitcoin così come li ha come così come li ha iniziati satoshi nakamoto e così come lo sta li sta finendo ultimando il genio umano a noi questa cosa interessa relativamente è ovvio che l'argomento prezzo piace e quindi c'è tantissima attenzione probabilmente verranno approvati non c'è un motivo da farci pensare per farci pensare che non verranno approvati ciò che ci ha colpito guy brush è quello che sta succedendo è talmente tanta l'attenzione cioè fammi capire cosa è successo hanno hackerato l'account twitter della secca questo c'è sì veramente allora è tragicomica la situazione comica perché vabbè tutta questa euforia racconta di quello che vi diciamo da sempre cioè che la maggior parte delle persone che si avvicina bitcoin lo fa perché ne sente parlare nei momenti in cui il prezzo aumenta e questo purtroppo è un principio che abbiamo verificato è triste per me secondo me perché la comprensione profonda di quello che propone bitcoin dovrebbe entusiasmare molto ma molto ma gli ordini di grandezza molto di più di semplicemente vedere il controvalore in dollari o euro che è sostanzialmente un'unità di misura completamente drogata e falsata cioè io posso anche dirti wow bitcoin varrà 10 milioni di dollari l'anno prossimo ma con se con 10 milioni di dollari ci compro un panino siamo appunto a capo è un'unità di misura va bene che siamo abituati a quello e questo è un passaggio obbligato però tutto questo fuori tutto questo entusiasmo sono un po tristi però a parte la 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 parte tragica c'è anche la parte cobica ovvero la sec la security exchange commission che sarebbe l'organo dal quale pendono i labbroni esatto esatto nella figura di gary gensler che l'abbiamo commentato anche lui è quello che diciamo decide se un exchange può scambiare determinate shitcoin o meno ve l'avevamo raccontato in autunno cose di questo tipo e sono tutti lì in attesa di aspettare che vengano approvati questi fondi in maniera diretta su bitcoin sono 12 in lista d'attesa e in prossimità della della scadenza del primo di questi che mi pare sia il 10 è proprio il 10 ieri da quando ho sentito la puntata è successo una cosa che io credo mi sono fatto un'idea comunque è successo che la sec ha twittato dall'account twitter x ufficiale della sec è stato twittato il un tweet che che vi recito adesso perché lo guardo praticamente today the sec grants approval for bitcoin etf for listing on all registra del national security exchange tra l'altro già così fatto così è un po sospetto perché loro non è che approvano bitcoin così loro devono approvare uno per uno o non non tutti alcuni e altri no fondi di questi certo certo avrebbero dovuto andare nel merito noi abbiamo appena approvato il filing di art invest quindi non è che approvano bitcoin qui però c'erano talmente tante persone attaccate a questa notizia che lì come hanno visto sta roba il pump di bitcoin tutti subito in tre secondi bottiglie di champagne stappate slambo che smarmitavano cioè proprio la scena dubai a dubai è morta gente cioè proprio la il circo fiat più becero e più inchiavabile che ci possa essere sulla faccia della terra vabbè comunque la la cosa più sottile è il fatto è che dall'analisi di alcuni esperti più di cyber security che di bitcoin e criptovalute in generale emergono dei dettagli imbarazzanti proprio per la secca e per gary jagans le re in generale per un ente che dovrebbe proteggere la sicurezza degli investitori ti senti protetto guy bro mi sento molto protetto anche visto il fatto che non avevano abilitato sul loro quanto pare non avevano abilitato il two factor authentication sul loro account twitter perché vuoi chi vuoi che possa prendere di mira l'account ma voi vi rendete conto voi vi rendete conto e la password sarà il nome del gatto di gary esatto quindi molto probabilmente qualcuno è riuscito ad ottenere l'accesso all'account ha pianificato qualche posizione long da qualche parte su qualche exchange e in prossimità di scadenza ha buttato un tweet così ed effettivamente ha funzionato ecco forse la cosa che possiamo dedurre di più da questo evento è come tutte le voci sul fatto che l'evento di approvazione tf sarà un classico sell the news ovvero come gli investitori classici insegnavano buy the rumors sell the news cioè quando esce la notizia vendi quando invece ci sono le ci sono i rumor compra proprio per andare a indicare i momenti di picco in cui effettuare operazioni di entrata in uscita invece il fatto che un semplice tweet anche scritto male abbastanza cioè si capisce un po' se stai attento non può essere la secca scrive una roba del genere ha provocato un pump istantaneo quindi secondo me questo ci dà un po' l'idea di quello che accadrà quando effettivamente però però ragazzi però fammelo dire questa cosa ripeto davvero noi non vogliamo fare naive i naive è ovvio che il prezzo è una componente importante bitcoin è anche store of value riserva di valore noi facciamo un po' gli sbruffoncelli su questo ma il messaggio che vi vogliamo dare ragazzi questi etf verranno provati verranno approvati quello che succederà non lo sappiamo nessuno lo può sapere perché bitcoin è così ragazzi ascoltate due vecchi che già qualche ciclo che sono su questo montagna russa pazza chiamata bitcoin state tranquilli non fatevi prendere dalla fomo è sempre molto presto quello che succederà quest'anno nessuno lo può sapere perché non abbiamo mai avuto in congiunzione un evento epocale come l'alving e tutta una serie di attestazioni ufficiali come come appunto dei grandi fondi di investimento che finalmente nessuno sa che cosa succederà io allora diciamo che l'evento è bitcoin diventa mainstream ecco se wall street parla e parleranno letivo continuamente quindi diventa mainstream esatto nello stesso anno in cui diventa mainstream la scarsità aumenta queste due cose insieme nessuno le ha mai viste e quindi nessuno può prevedere diffidate da tutti quegli squaletti sfigati che vi dicono di avere la ricetta perfetta raga il bitcoin è un cavallo pazzo chiunque abbia un minimo di esperienza lo sa state calmi continuate ad accumulare continuate a studiare la tecnologia sta migliorando tra poco parleremo di cose che sono anche dal mio punto di vista preoccupanti tutto cambia affinché niente cambi in bitcoin e quindi sempre prudenza ragazzi non vendetevi la casa se vedete che fra due giorni c'è un pump della madonna perché non è il caso di vendersi la casa questo intendevo dire guy brush no ma va no allora bisogna accettare questa componente di euforica che tra l'altro purtroppo anche personaggi nel settore da anni spingono in maniera secondo me un po' sconsiderato come samson mao che parla di un milione nel giro di un mese sono sempre ste sparate qua sul prezzo per attirare alla fine se se tu gli dici alle persone wow la tecnologia la scarsità digitale la termodinamica proof of work è meno appealing di dirgli un milione puoi comprare la lamborghini e questo ce ne rendiamo conto però diciamo che io apprezzo più il fatto non tanto che bitcoin ci farà diventare ricchi tutti ma che non ci farà diventare poveri questa è la parte che preferisco di più se proprio vogliamo approfondire i termini dei prezzo bravo 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 bitcoin etf a noi non interessa perché mai dovremmo comprarceli quando possiamo comprare the real thing il bitcoin e ovviamente conservarlo con cura all'interno dei nostri bitbox 02 che cos'è bitbox 02 è il miglior hardware wallet sul mercato hardware wallet è una specie di cassaforte che tiene conserva le vostre chiavi private offline in maniera assolutamente sicura e quindi quando avete accumulato un po più di bitcoin un po più di satoshi la frazione piccola minima del bitcoin e volete averne cura maggiore ecco dovete dotarvi di un hardware wallet e dal nostro punto di vista dovete nello specifico dotarvi di un bitbox 02 sul sito bitbox.swiss potete apprezzare tutte le qualità in termini di sicurezza informatica facilità di utilizzo di questo dispositivo un dispositivo proudly made in svizzera e quindi con il bollino certificato della qualità svizzera un investimento utile per dormire sonni tranquilli e sapere che i vostri bitcoin sono in una botte di ferro col codice bip show potete acquistare sullo store del sito bitbox.swiss il vostro bitbox 02 col 5% di sconto mi raccomando ragazzi bitcoin è prezioso abbiatene cura cambiamo argomento perché il 3 gennaio siamo sempre lì è il tempo no per i elio non solo per i elio ma il 3 gennaio e le storie te esattamente il 3 gennaio è successa un'altra cosa è successa che un'azienda chiamata 3 gennaio gentry è appunto capitanata come ceo da samson mo uno degli og uno dei massimalisti più rispettati nel panorama bitcoin quello che ha fatto del mantra have fun stay in power urlato in faccia gli shit coiner uno dei suoi cavalli di battaglia ha pubblicato proprio il 3 gennaio il suo primo wallet bitcoin chiamato acqua ed ha fatto una comunicazione molto aggressiva in questo di questo prodotto che nelle intenzioni dell'azienda vuole risolvere due problemi uno la difficoltà di utilizzo di bitcoin lo slogan di acqua è finalmente arrivato il wallet che anche tua nonna può usare senza pensieri proprio c'è scritto se andate sull'app store c'è scritto questo è il wall noi vediamo il wallet della nonna tutti i wallet che avete conosciuto fino ad oggi è monnezza complicata le chiavi private cosa qua clicca qui clicca là un bordello invece acqua ha risolto il problema dell'interfaccia ed è il wallet a portata di nonna l'altra cosa che si propone è di essere un wallet non custodial che quindi che ti dà le chiavi private e che a differenza degli altri wallet non custodial oltre ad essere più semplice risolve il problema di scalabilità sui layer successivi consentendo di utilizzare di transare bitcoin sui layer successivi in maniera assolutamente facile ed estremamente economica e quindi il cavallo che vuole cavalcare è quello che abbiamo visto nei giorni scorsi le fee l'anno scorso sono si sono alzate parecchio a causa delle inscription ordinals ne abbiamo parlato tanto durante la quinta stagione questo significa difficoltà sul lightning network aprire dei canali nuovi diventa costoso gestire la liquidità a volte a volte diventa costoso insomma chi ci ha visto lungo e già aveva un canale lightning aperto e bello ridondato non ha avuto grossi problemi se non pagarsi la fee per caricarlo magari con un channel splicing su phoenix chi invece è arrivato un po' tardi in effetti qualche difficoltà l'ha avuta e quindi guy brush però arriva acqua bitcoin arriva acqua e acqua risolve tutto hai capito finito scalato bitcoin è finito abbiamo vinto bitcoin è perfetto adesso grazie a samson a gentry chiamo subito decca christian decca gli dico smetti esatto allora tu l'hai provato io l'ho provato allora no non l'ho provato l'ho solo scaricato installato e ho letto un po' di specifiche non l'ho ancora provato dimmi come funziona allora no funziona in maniera molto lenta ed è pieno di bug però questa cosa qua sinceramente a me non fa urlare allo scandalo è una prima release volevano per forza uscire il 3 gennaio per fare rumore vabbè questa è una marchettata forse non credo che l'eparto ingegneristico di gentry fosse tanto d'accordo perché il software è acerbo però ci sono delle cose che mi lasciano incredibilmente perplesso guy brush allora partiamo con la facilità di utilizzo il wallet non custodial a portata di tua nonna allora innanzitutto apri il wallet e la prima cosa che ti fa fare ti giuro è accettare i termini terms and condition del servizio io un wallet non custodial che prima di attivarsi mi facesse mettere accetto ai terms of service io non l'avevo mai visto in vita mia no effettivamente novità e li hai letti della pappardellona tant'è che sono andato a leggerli no e vabbè lì c'è un disclaimer acqua è in beta eccetera eccetera si parla del rapporto tra acqua e il cliente effettivamente si ribadisce che non custodial quindi loro si sollevano da ogni responsabilità vabbè fa molto ridere a un certo punto il passaggio ve lo mettiamo nelle note della puntata c'è un bel capitolo così con bello grassettato che dice acqua è un wallet pensato per gli utenti esperti chi accetta questi termini di servizio dichiara implicitamente di essere un utente bitcoin di grande esperienza ma come hai fatto la nonna dichiara di essere la nonna la nonna di spider man sarà la nonna di samson che evidentemente non lo so vabbè e questa cosa qui già però mi incuriosisce vabbè si ha accetti le tue termine terms and conditions si apre una schermata e ci troviamo davanti a tre bottoni pulsanti un pulsante bitcoin che viene denominato come saving account ed è un wallet bitcoin puro ti dà le tue 12 parole ed è un wallet bitcoin on chain che viene semplificato come saving account e già io qui francamente guy brush non sono tanto d'accordo perché io non chiamerei un wallet un software wallet saving account io non ci terrei io non consiglierei mai a nessuno a cui voglio bene di tenere i propri risparmi in bitcoin su un software wallet come se fosse un saving account gli consiglio un hardware wallet se è un saving account un software wallet è il 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 portafoglino con cui esci per andare a bere con gli amici la sera non certo quello dove tieni tutti i tuoi risparmi come se ti portassi tutto il conto in banca per andare a vendere il caffè uno allora non riesco più a capire se acqua è per la nonna o per gli utenti esperti continuo a credere al loro marketing se il loro marketing è mia nonna si sta dicendo a mia nonna che può tenere lì risparmi della sua vita francamente grazie ragazzi ma anche non mi sembra una grossa cazzata ma vabbè qui siamo un po pelosi la terza voce salto la seconda volontariamente è tether e va bene ci sta perché comunque un'altra delle dichiarate volontà dell'azienda è quella di bank di un bank e che acqua è un wallet pensato per i paesi emergenti e quindi lì lo sappiamo lo abbiamo documentato anche noi nei nostri viaggi tether viene usato e come e quindi che in un prodotto pensato per il secondo e il terzo mondo si voglia includere la stable coin più usata al mondo a me francamente non fa particolarmente arricciare il naso non è una cosa che mi fa urlare allo scandalo è il secondo bottone la seconda opzione che a me mi ha un pochino infastidito incuriosito e ho voluto vederci meglio la seconda opzione è layer 2 di bitcoin lightning e liquid denominata come spending account quindi si contrappone secondo loro il saving account bitcoin on chain con il spending account come bitcoin da spendere istantaneamente grazie al layer 2 viene proprio esplicitato andatevelo a vedere c'è il link nelle note liquid network e lightning anzi prima lightning che liquid allora fammi mettere un attimo in pausa la cosa già qui mia nonna non ci sta capendo un cazzo non so la nonna di samsung ma vi posso garantire che mia nonna non ci sta capendo un cazzo liquid lightning saving bitcoin cazzo è tether rimane saving e spending quello che hai però già gli stai dando tre bottoni da selezionare ma vuoi mettere l'interfaccia lascia perdere il setup quanto è pulito fenix apri in via o ricevi due opzioni no qua uno deve capire se deve mia nonna dovrebbe capire secondo loro se inviare un chain se inviare lightning se inviare tether e non sa che differenza c'è c'è è un disastro la you la you x peggiore che io abbia visto nei software wallet degli ultimi cinque anni a mani basse al di là dell'ufficio marketing di gentry ma poi guy brush cosa vuol dire layer 2 lightning e liquid cioè io clicco lì sopra e mi si apre una schermata con un codice qr di default su liquid e se io voglio selezionare il lightning network posso selezionare il lightning network e a quel punto mi genera un codice qr lightning io faccio subito la prova mi mando 5000 satoshi dal mio dal mio dal mio phoenix al mio nuovo acqua e quando mi arrivano scopro che non sono bitcoin ma sono vrap sono liquid bitcoin vado a capire meglio come funziona chiedo anche informazioni a samson su twitter si avvia una discussione con gente che mi dava i dettagli e praticamente acqua così risolve il problema della scalabilità tutto quello che riceve lo swappa tramite un servizio esterno e te lo dà sul wallet con sotto forma non di satoshi ma di liquid bitcoin senza venire avvisato non esce un pop up sono andato a rivedere nei termini di servizio e questa cosa non viene neanche menzionata e io francamente questo lo trovo estremamente ingannevole perché mia nonna pensa di ricevere bitcoin e invece riceve liquid ma a questo punto no guy brush a me mi viene da domandarti una cosa no cioè sono anche andato a vedere sul sito sull'account di liquid block stream e liquid nella descrizione c'è scritto layer two solution for bitcoin acqua dice sei stessa roba lightning liquid che te frega se non sono btc ma sono lbtc ma allora io ti voglio chiedere una roba da un punto di vista tecnico liquid è un layer two di bitcoin gli lbtc sono bitcoin allora la ringrazio per la domanda lei laggiù in fondo perché la questione è complessa ed è non è non si riferisce solo a bitcoin in generale ma è proprio una questione che risale a credo ai filosofi pressocratici con parmenide cioè come chiamare cosa cioè come si chiamano le cose su cui tutti conveniamo che cosa significa esistere che cosa significa layer two fa parte del problema classico che c'è in informatica che si chiama la cosiddetta ontologia cioè cosa chiamiamo funzione cosa chiamiamo layer two in bitcoin essendo che come anche lo stesso satoshi nakamoto ci diceva tanto tempo fa è una cosa che è difficile da spiegare perché non ha termini di paragoni una tecnologia è una scoperta è un'invenzione che non hanno un termine di paragone e quindi dobbiamo diciamo ripartire da zero fino ai massimi sistemi fino a decidere come chiamare le cose e noi stessi abbiamo cambiato anche il nostro modo di descrivere bitcoin certe parole sono ormai entrate nel linguaggio comune come hardware wallet anche se sappiamo che sarebbe più corretto chiamarli seed no scusa signer device quindi dispositivi che firmano le transazioni perché non sono veri e propri portafogli come wallet la parola vuole farebbe intendere sulla parola layer two cioè su strato successivo livello 2 di bitcoin c'è grande dibattito anche se è più facile forse di rimere la questione tecnicamente perché perché nel caso di liquid liquid bitcoin e lightning network parliamo proprio di due cose completamente differenti ovvero per il lightning network noi stiamo di fatto sempre in controllo delle nostre utxo quindi delle nostre unspent transaction output quindi delle nostre diciamo delle eventuali transazioni che ipoteticamente andremo a scrivere on chain l'unica differenza che c'è rispetto a l'utilizzo normale di bitcoin chiamiamo il più semplice quindi la scrittura effettiva nei blocchi è che rimandiamo nel tempo in un tempo futuro che potrebbe anche non accadere mai questa scrittura ma di fatto il protocollo è esattamente lo stesso quindi noi facciamo una contrattazione infinita di quello che potrebbe essere scritto on chain nel caso di liquid invece una scrittura c'è effettivamente finisce il protocollo bitcoin con la procedura chiamata peg out significa che tu per passare dei bitcoin a la blockchain liquid effettivamente esci dalle regole del protocollo bitcoin perché il meccanismo funziona come quello di una anche questa mi pare che avevamo fatto due o uno sì sì l'abbiamo già spiegato è una side chain è un'altra blockchain esatto esatto è un'altra blockchain a livello tecnico esci proprio dal consenso dal protocollo e vai a far parte di altre regole infatti una delle qualità di liquid della liquid federation è proprio che diciamo non utilizzando il classico meccanismo proof of work ma essendo una federazione di validatori può permettersi di risolvere alcuni problemi di scalabilità di bitcoin intrinsechi all'algoritmo chiamiamolo bitcoin semplicemente eliminando alcuni colli di bottiglia ti fermo un attimo nel disclaimer nella campagna di marketing di acqua viene descritto come un wallet non custodial liquid è non custodial allora è non custodial anche qui il problema è ontologico ovvero è non custodial perché le chiavi private le hai fin tanto che liquid rimane liquid dentro liquid è non custodial le chiavi private ce le hai tu e solo tu puoi proporre una transazione firmata con le tue chiavi e quindi solo tu puoi spendere i tuoi i tuoi liquid bitcoin che ricordiamolo comunque sono peggati sono uniti uno a uno quindi un liquid bitcoin è uguale a un bitcoin ma le due utxo chi ce le ha tu o la federazione all'interno all'interno del liquid network se tu rimani sempre in liquid è è tutto non custodial se tu consideri allarghe consideri bitcoin anche bitcoin qui ti dice a un certo punto io voglio uscire dalla non sono io che li sto considerando loro lo definiscono un layer 2 di bitcoin non ne parlano come quindi a questo punto io seguo il loro gioco e mi chiedo ok se questo è un layer 2 di bitcoin non può essere considerato un layer 2 di bitcoin secondo me e soprattutto è la federazione è la federazione che decide anzi sono 15 16 come è che li chiamano loro aziende che in realtà poi firmano le transazioni come 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 vengono chiamati sul liquid network liquid members mi pare liquid members sono quelli che gestiscono la liquidità appunto del di tutto il network che fanno la validazione dei blocchi con un algoritmo che adesso non mi ricordo comunque non è proof of work comunque la parte forse diciamo su cui giocano in maniera un pochino maliziosa è per il fatto che se tu se tu rimani sempre dentro a liquid effettivamente il funzionamento è uguale a quello di bitcoin tranne che è più veloce costa meno le fee perché non c'è proof of work eccetera ma se tu lo consideri e dici che è un layer 2 di bitcoin allora decade tutto non è più non custodial ma è full custodial perché io per uscire dal network ho bisogno di qualcuno che mi metta a disposizione la liquidità e può decidere di non farlo quindi in questo caso è full custodial ora samson mao samson è stato ospite da btc session ben che molta gente è stata contenta molti grossi nostri colleghi internazionali sono stati entusiasti di vedere liquid tutto swappato in liquidi io resto molto perplesso però la domanda gli è stata posta samson la risposta è stata noi dobbiamo usare le tecnologie che sono disponibili in questo momento chi questi nodi validatori che non sono che sono hanno un nome adesso te lo cerco all'interno della federazione sono se non sbaglio 15 16 aziende selezionate da block stream che hanno delle caratteristiche se andate a leggere nello statuto magari o nel funziona o nelle nelle q a di block sul sito di block stream hanno delle caratteristiche sono state scelte perché delle caratteristiche con delle caratteristiche non meglio precisate ma c'è ovviamente gentry block stream c'è odel odel cioè sono tutte aziende riconosciute nel mercato è una è una multisignature 15 su 10 se non sbaglio liquid esatto loro l'idea di samson è vabbè ma queste aziende qui hanno sono tutte investite direttamente in bitcoin e quindi che interesse avrebbero a scammare che interesse avrebbero rovinerebbero il loro stesso business ma che cazzo state dicendo ma che cosa stiamo dicendo ma cosa stiamo dicendo io ho un'idea più diciamo più moderata cioè mi rifaccio anche a dei problemi che sono già stati discursi già stati risolti tanti anni fa c'è lo stesso al finnei non so se ti ricordi la frase o il pezzettino ve lo linko nel 2010 in una discussione su bitcoin talk parlava di queste banche tra virgolette bitcoin backed e lui stesso diceva c'è una buona ragione perché possano esistere in futuro delle banche tra virgolette sempre perché il termine ancora non era stato pensato come federazione così che emettono la propria valuta digitale in questo caso la federazione della liquid network sta emettendo un liquid bitcoin un paper bitcoin qualcosa quindi era già previsto il fatto che potessero esserci la nascita di alcuni business che mettono a disposizione liquidità su bitcoin sul circuito internazionale bitcoin lo chiamiamo così con caratteristiche diverse anche in termini di cessione della privacy cessione della totale sovranità e cessione di altre caratteristiche quindi secondo me questa cosa non è proprio scandalo è più scandaloso il modo in cui hanno comunicato e si sono fatti un pochino fregio di proprietà che il liquid network non ha ovvero non non è un layer 2 di bitcoin su questo possiamo convenire tutti ma se con una dovuta scusami ti interrompo ti interrompo un attimo perché nel frattempo l'ho trovato si chiamano functionaries i funzionari queste entità elette all'interno divinità all'interno della federazione che gestiscono le multisig 15 di 11 11 di 15 anzi allora uno non è obbligato cioè non è come adesso che tu per interagire con il sistema finanziario devi avere un conto in banca di cedere totalmente la tua sovranità sui sui tuoi risparmi sui tuoi soldi a un ente terzo una banca e non solo c'è la sovranità di quelli che hai a una banca ma hai già ceduto quando sei nato la sovranità di quelli che forse avrai alla banca centrale che decide quanti dartene e quanti crearne quanti no certo qua parliamo di un sistema totalmente drogato totalmente non funzionale ma infatti ma infatti e che stiamo aggiustando con la liquid federation stiamo facendo un passaggio che non è che è facoltativo cioè tu non sei obbligato ad avere acqua wallet poi da come mi racconto no però certo certo però vabbè adesso lo miglioreranno però da un punto di vista tecnologico liquid bitcoin è un token che sta su un'altra blockchain sì perché i tuoi bitcoin vengono tenuti dalla federazione in piena custodia e servono e vengono frappati e viene emesso un altro token su un'altra blockchain che si chiama lbtc e che non è bitcoin no e stando al mantra degli dei massimalisti tutto ciò che non è bitcoin è una shit coin quindi liquid è una shit coin liquid è una shit coin che non si è cagata mai nessuno negli ultimi esiste da quanto esiste da quanto liquid esiste da anni è prodotta da block stream di un'inutilità inchiavabile liquid adesso improvvisamente aspetta fammi fare questo ragionamento adesso improvvisamente in periodo di alte fee mi viene venduta come scaling solution layer 2 di bitcoin sui siti ufficiali di liquid gestiti da block stream quindi per volontà evidentemente dell'ufficio marketing di block stream mente se lo chiama layer 2 e per di più pushata all'utente finale attraverso un wallet che promette di essere non ready che all'insaputa dell'utente swappa i satoshi in una shit coin e ti fa pure pagare le commissioni cioè io devo pagare 400 satoshi per farmi frappare i miei bitcoin e farmi dare del liquid di merda e non viene non c'è un pop up non mi viene avvisato da nessuna parte la cosa non viene menzionata nei nelle terms of service ma stiamo scherzando questa è una scammata e la cosa scandalosa è che se non venisse da block stream e se non venisse da gentri e da samson mo tutti i massimalisti del mondo converrebbero nel dire che questa è una scammata perché se questo è il modo di scalare bitcoin samson usa solana allora io sono più moderato ti dico la mia io non penso che sia una scammata io penso non penso neanche che sia una scammata comunicata così è una scammata comunicata così venduta come bitcoin quando è l bitcoin de merda non è sicuramente un layer 2 però però esattamente come io non sono integralista e ti posso dire i tuoi risparmi preferisci di tenerli sull'hardware wallet su un cold wallet ton chain come vuoi tu però usa i bitcoin veri come se ti dicessi usa l'oro vero ecco esatto per andare a per altri utilizzi del denaro come andare in giro trasportarselo che ne so in vacanza puoi usare anche i pezzettini di carta che ho scritto sopra la firma di un tizio lontano così quello che facciamo già adesso però prima non poteva non potevamo più farlo perché purtroppo questa possibilità ci era stata tolta adesso possiamo ancora farlo quindi nello stesso modo in cui io posso dire ok io la mia i miei risparmi ce li ho in bitcoin ma mi apro wallet of satoshi che è full custodia lo uso per andare in vacanza siamo d'accordo siamo d'accordo è opzionale questo è vero che è opzionale uguale qua uguale qua io posso dire cedo temporaneamente la sovranità di alcuni fondi miei fondi alla me lo devi dire sono d'accordo con te ma me lo devi dire non me lo devi vendere come non me lo devi fare in automatico e se io non me ne intendo non capisco un cazzo me lo devi dire è uno scam fatto così non è che non è trasparente è truffaldina perché qui è chiaramente una scelta di marketing la non trasparenza e c'è un altro elemento che ti voglio portare se la linea di samson mao per difendere questo aborto di wallet mezzo bitcoin mezzo shit coin è e vabbè ma in un periodo di fi così alte dove tutti stanno facendo difficoltà le fi spaventano i nuovi utenti noi dobbiamo utilizzare le tecnologie che abbiamo a nostra disposizione lo sto ci più sto quotando letteralmente lo sto quotando le soluzioni che a vostra disposizione però non sono bitcoin e allora scusami cosa mi sta dicendo samson mao che è un big blocker la soluzione più semplice nel 2018 era cazzo di big cash di merda e però abbiamo scelto giustamente di non fare la scelta più facile ma fare quella ingegneristicamente più complicata perché il trade off che è big cash non era accettabile e non è accettabile neanche oggi e lo schifo che è big cash oggi dimostra è il fallimento più clamoroso quindi fammi capire nel 2018 samsung era uno di quelli che ti diceva no e adesso si scala con una shit coin sul liquid network cosa sta dicendo samsung che bitcoin ha fallito che il lightning network ha fallito secondo me la giusta visione è si scala anche con federazioni di diverso tipo ce ne sono diverse non c'è solo liquid ce ne sono tante altre anche così io allora aneddoto e forse poi cambiamo argomento stiamo andando in lunghi tanto tempo fa c'è stato un problema analogo con quando raccoglievamo di bitcoin con i tip su brave c'era qualche utente che ci mandava dei tip in bitcoin su brave brave però aveva un wallet su un servizio uphold quindi per trasferire le donazioni degli utenti che ci aveva fatto io utilizzavo appunto questo wallet orribile che era uphold e mi li facevo mandare al nostro wallet per poi spenderli il problema era che le commissioni di uphold erano fisse non erano dinamiche in base al netto erano fisse ed erano altissime quindi una volta feci uno swap per non perdere le donazioni degli utenti da bitcoin a litecoin e viceversa perché loro supportavano delle fee minori ecco in quel caso lì io ho fatto un passaggio funzionale ad una merdata per una funzione che in cui non ho ceduto totalmente è stato temporaneo è stato un modo per non dissipare le donazioni dei nostri utenti si può vedere anche nello stesso modo adesso in realtà se poi vogliamo approfondire gli swap al contrario non sono ancora disponibili per acqua wallet in generale passare da bitcoin a liquida è più facile passare da liquida a bitcoin è meno facile perché qualcuno ti deve appunto mettere dare il permesso e dare la liquidità ma non erano un custodial quindi secondo me in generale è una miglioria adesso almeno non siamo più costretti a fare passaggi esotici e stupidi come feci io ai tempi con litecoin con shitcoin peggiori da lì a dire che è una soluzione per scalare bitcoin ce ne passo di te però è una una delle possibilità che abbiamo poi sono d'accordo con te che disegnarla come la soluzione finale in cui tu hai bitcoin è proprio uno è forvi è molto forviante tutt'al più mettendoci anche un'altra componente e poi chiudo che il il codice di acqua wallet non è ancora stato rilasciato quindi non è oltretutto pure cloud source esatto quindi questo già mi fa un po' distorcere il naso perché almeno ok tu mi racconti un po' dei fregnacce a livello marketing e queste le debanchiamo in tre secondi ma mi stai raccontando delle fregnacce anche su quello che fa il wallet adesso mi viene sospetto quindi andrei a leggere il codice quando posso prima di utilizzarlo ecco non lo so guarda io devo dire lo trovo ma a me mi sono proprio cascati i maroni e oltretutto io che mi sono sempre vantato di non avere mai comprato shitcoin in vita mia nel provare acqua wallet mi sono reso conto che ho comprato per la prima volta in vita mia una shitcoin senza saperlo e ho pure dovuto pagare 400 saz agli scammer per colpa degli scammer di blockstream hai capito gli scammer di blockstream porco diaz io veramente stiamo perdendo la bussola ragazzi no c'è un vizio di forma che è che la tecnologia bitcoin è pensata per durare molto di più della vita operativa di un essere umano ok quindi però nella tua carriera se tu fai della tua vita e il tuo lavoro solo bitcoin nella maggior parte dei modi sei costretto ad avere risultati più velocemente di quanto non te lo permetta la tecnologia e quindi ti devi inventare un po di fregnacceri che c'è poco da girare se facessero tutti come me e te che tu giri il mondo ti sbatti io ho un altro lavoro per me le fregnacce non si devono raccontare le cose sono difficili ci si rimbocca le mani ci si rimbocca le maniche e si lavora a bitcoin non con le scorciatoie altrimenti sei un big blocker vai a fare big cash che c'ha tanto bisogno che sviluppa pippo e topolino cazzo cari amici se volete iniziare o proseguire il vostro viaggio con dei veri bitcoin con delle con non con dei surrogati noi vi consigliamo da tanto tempo l'acquisto diretto su con il servizio pocket bitcoin che offre un'esperienza di acquisto che secondo noi è il giusto compromesso tra facilità di comprensione di utilizzo e anche poca diciamo cessione delle proprie privacy con una procedura che chiamiamo kyc lite se andate sul sito pocket bitcoin o se scaricate l'applicazione dagli store pocket bitcoin vi renderete conto che avrete a disposizione subito un wallet non custodial con le vostre chiavi private dal quale però potete generare un ordine di acquisto verso i server di pocket bitcoin pocket bitcoin vi fornirà un iban bancario e un codice causale e voi effetterete il bonifico dal vostro internet banking o come preferite avendo cura di inserire quel codice e pocket bitcoin vi darà i vostri associ sul vostro wallet pocket bitcoin supporta tutti i maggiori wallet disponibili anche hardware wallet anche wallet esistenti in altri modi e voi potete semplicemente fornire la chiave pubblica dell'indirizzo al quale volete ricevere bitcoin per un massimo di acquisto di 900 euro al giorno secondo leggi svizzere noi vi consigliamo pocket bitcoin per il vostro acquisto arrivano notizie molto interessanti e molto confortanti da el salvador un altro paese che abbiamo sì 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 finalmente qualcosa di confortante no no infatti 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 c'è una buona notizia a dare la buona notizia c'è la velina di buchele sushi herbert che non perde tempo che non perde tempo di comunicare al mondo a mezzo tweet che da febbraio quando tutti gli studenti salvadoregni torneranno a scuola per tutte le scuole superiori di tutta la nazione ci sarà il bitcoin diploma il corso di bitcoin finalmente nelle scuole nelle scuole in tutte le scuole del paese in tutte le scuole del paese superiori quindi adesso non so esattamente lì come le dividano però quindi è una buona notizia questa è una buona notizia quindi finalmente non sarà più la povera onlus mi primer bitcoin a dover coordinare l'insegnamento ma sarà il governo di el salvador alleluia finalmente a quasi a tre anni dall'approvazione della legge a investire per fare un per fare appunto un corso per offrire un corso a tutti gli studenti ora la cosa interessante è che sushi herbert ci tiene a pubblicare il libro di testo bello con la copertina col logo del governo il realizzato in collaborazione con va con mi primer bitcoin e subito qualcuno gli scrive sushi che figata che figata vorrei averne una copia dove posso trovarla e lei risponde se vuoi puoi scaricare una copia open source sul sito di mi primer bitcoin perché il libro di testo è stato ispirato a quello ma non è esattamente uguale e ovviamente sushi sashimi mica ci dicono in che cosa è cambiato il libro di testo però ricchi due amichetti nel salvador c'è gli ha e subito prende il telefono e si informa su che cosa è cambiato prova un po' a indovinare rispetto al libro di testo il valerio staffelli di valerio staffelli ma vai a cagare cazzo vai a cagare ti vai a dare il tapiro io voglio che le cose delle dovete dire mentire è fiat allora abbi il coraggio di dire che hai preso il testo di mi primer bitcoin dove non c'era riferimento l'hai copiato e ci hai aggiunto civo di merda abbi il coraggio di dirlo pubblicamente e di prenderti questa responsabilità perché è quello che ha successo guy brush ah cioè hanno aggiunto il tutorial di civo c'è civo dentro allora mi hanno detto mi hanno detto devono mandarmi le scansioni mi hanno detto che sono riusciti a fare argine degli eroi per fare in modo che fosse una cosa abbastanza soft però civo caro mio c'è e c'è come nel libro di testo che andrà a finire in tutte le scuole del paese mentre in quello che veniva utilizzato fino a ieri dalla onlus di bitcoiner mi primer bitcoin col sigillo con la firma l'approvazione di giacomo zucco sul testo finale di civo non c'era traccia e quindi ragazzi è come ve l'avevo detto posso dirlo ve l'avevo detto posso dirlo puoi dirlo puoi dirlo comunque guy brush indagheremo ulteriormente era una notizia importante comunque adesso al di là degli scherzi la cosa fondamentale che che si insegna in salvadoregni che cos'è bitcoin poi o civo esiste e quindi ci può anche stare che nel libro di testo ci sia cioè non è che il governo può far finta che non esista e però insomma il bitcoin president agli alunni insegna anche come usare uno spyware custodial e ofac compliant e questa è la realtà oggettiva dei fatti guy brush ottime notizie anche dal continente africano guarda vaticino ti faccio una previsione questo 2024 parleremo tantissimo di africa questo è l'anno dell'alving e sarà l'anno dell'africa guy brush vedrai ottime notizie dalla nigeria il paese più popoloso del continente africano nonché la prima economia del continente africano ne abbiamo parlato tanto al nostro show quella dove l'adozione di bitcoin fa terrorizza il parlamento tanto che in una seduta i parlamentari si dicono bitcoin sta rendendo la nostra valuta locale inutile il paese che però cerca di reprimere l'adozione di bitcoin vietando alle banche agli istituti finanziari di avere qualsiasi cosa a che fare ma il paese che continua a scambiarsi bitcoin peer to peer il paese dove ci sono dei venture capitalist che investono in start up bitcoin in nigeria la buona notizia caro guy brush è che la banca centrale nigeriana finalmente alza bandiera bianca eleva il ban e quindi con una circolare di fine dicembre fa sapere alle banche istituzioni che irrà istituito un registro attraverso le qua attraverso il quale chi vuole offrire servizi ovviamente si parla di criptovalute non di bitcoin specificamente chiunque vorrà offrire servizi potrà farlo iscrivendosi a questo registro e secondo tutte le normative solite quando c'è da avere a che fare con regolatore quindi permessi kyc controlli verifiche eccetera 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 ma questo non importa questa è una buona notizia perché l'africa ha bisogno di bitcoin la nigeria una fucina di talenti come in africa non non ha non ha uguali e io credo che questa cosa finalmente legittimerà gli scambi tra gli individui in bitcoin nel paese che invece fino a ieri avvenivano no sui siti peer to peer sui gruppi telegram lo abbiamo raccontato tante volte nel nostro show e poi probabilmente darà una grande impulso a tutta un'industria di beni e servizi attorno al bitcoin perché la nigeria è un paese dove di domanda ce n'è e come 300 milioni di nigeriani aspettano bitcoin ottima news senti ma senti questa domanda che ti pongo ma secondo te non è che stanno dando il permesso alle banche nigeriane di comprarsi gli etf e chi lo sa e chi lo sa o può anche essere però sai l'inculata di essere il regolatore è che più o meno almeno sulla carta la legge dovrebbe valere per tutti quindi non puoi avere la botte piene la moglie ubriata esatto esatto e quindi comunque anche se è quello il motivo l'effetto domino che potrebbe innescare questa apertura nel 2024 è potente parleremo tantissimo di africa al bitcoin italia podcast nel 2024 gai brush credimi e beh sì sì assolutamente sì tra le altre cose non so se vuoi fare un'anticipazione ma nessuna anticipazione come i commercianti nigeriani anzi meglio dei commercianti nigeriani in italia è facilissimo ricevere bitcoin grazie a b pay l'applicazione che di fatto vi porta un post bitcoin nel vostro ristorante nel vostro negozio qualsiasi sia la vostra attività b pay è facilissimo si scarica per dispositivi android e ios si installa in un attimo e in pochi minuti siete pronti a ricevere bitcoin on chain o sul lightning network caspita ricky ma come faccio con la fiscalità e non è un problema la fiscalità perché alle tasse pensa il vostro commercialista e b pay fa un report automaticamente che tiene conto di tutti i vostri incassi bitcoin quindi il vostro commercialista sta sereno ragazzi entrate nel futuro anche voi e grazie a b pay come andando sul sito bitcoin people.it compilando il form api e pagina e prenotando per voi e per la vostra azienda una consulenza gratuita con lo staff di b pay che dire è arrivato il momento di portare bitcoin nel vostro business adesso c'è un momento specialissimo cosa se è la grande novità della sesta stagione una delle grandi novità della stagione forse la più incredibile la più fulgida guy brush una nuova rubrica del bitcoin italia podcast che cercherò di curare tutte le puntate con una pillola che ho chiamato le curiosità del professor guy brushazzi ma io sento già a casa la gente che applaude si strappa i capelli scene di giubilo dai allora vado veloce che siamo lunghi se no dunque che cos'è questa rubrica sono delle curiosità nello stile della della rubrica non tutti sanno che della settimana enigmistica raccolgo raccoglierò ho già raccolto diverse piccole nozioni riguardo bitcoin che potrebbero avere anche un senso rispetto a fatti di totalità quella di questa di questa puntata della prima puntata della sesta stagione è l'incredibile presa di coscienza del fatto che satoshi nakamoto nonostante abbia come lui diceva con l'espressione set in stone cioè inciso nel travertino digitale come ha copiato questa espressione da ricchi proprio uguale la fornitura fissa di bitcoin a 21 milioni in realtà non tutti sanno che la sua implementazione di questa di questa regola non era corretta all'inizio nel corso che cosa ma allora è finito tutto samson diventa shit coiner satoshi nakamoto sbaglia i 21 milioni ma è finito tutto guy allora se ne accorse nel 2014 il mio mentore gregory maxwell il pimpante energetico eccitante gregory maxwell che fece notare come nell'implementazione di satoshi nakamoto c'era un problema ovvero che satoshi nakamoto ha usato c più più per sviluppare il codice e nella quando scrisse la funzione che si chiama get block value cioè quella che ti dice il valore di reward del blocco corrente in realtà alla fine di fammi pensare quanti anni dei cento dei mille venti no dei centoquarant'anni sarebbe sarebbe ripartita da 50 quindi l'halving funziona 50 diviso 2 25 diviso 2 eccetera eccetera alla fine a 0,0000001 diviso 2 ci sarebbe stato un ritorno per l'implementazione in cpp a 50 perché l'operazione matematica che lui aveva implementato che si chiama right shift cioè lo spostamento a sinistra dei bit superando la grandezza dei 64 bit che è il diciamo la grandezza massima di un intero nei computer adesso sarebbe andato in cosiddetto overflow e sarebbe ripartito dall'inizio quindi da 50 questo ovviamente è una cosa che avver sarebbe avvenuta nel 2214 tipo però è interessante leggere la soluzione che si chiama che è stata esposta da peter wille in maniera molto sardonica ironica vi invito a leggerlo nel bip 42 che trovate nelle note della puntata ci sono memorabili i passaggi in cui dice satoshi was a master programmer era un programmatore eccellente la cui conoscenza del cpp era sorpassata solo dalla conoscenza della cultura giapponese oppure cose soluzioni in cui dice prende per il culo gli sviluppatori di bitcoin core del tempo dicendo che sono una proposta potrebbe essere usare invece che il numero 21 milioni usiamo la stringa di caratteri 21 milioni è semplice semplicemente eliminiamo uno zero come se fosse una lettera dell'alfabeto alla fine questa dovrebbe essere uno stile più familiare al bitcoin core team che non che si sa sono dei programmatori php e questa è una battuta che solo gli sviluppatori capiscono esatto capisco quindi la soluzione diciamo poi prende per in giro la fretta con il quale si è cambiata questa questa riga importante che di fatto però anche se è buffa ci fa pensare come alcune cose che possono essere considerate dei bug in realtà vanno a toccare delle regole fondamentali di bitcoin ok questo qua è un caso estremo nel senso in cui il k 21 milioni è uno dei 3 4 parametri fondamentali del net quelle costanti universali che ne ripetiamo sempre però non era stata implementata nel modo corretto quindi abbiamo dovuto raggiungere un consenso nell'aggiornare anche questo pezzo capito una cosa che sarebbe avvenuta talmente in là nel tempo che come dice come dice peter wille dice a meno di breakthrough quindi di scoperte nella nel risuscitamento criogenico non potrebbe non fregarsi di un cazzo adesso ma dobbiamo porci il problema lo stesso risolvere coin eterno esatto convenire su una soluzione prima dell'eventuale ossificazione ossificazione che sta tornando come argomento diciamo di dibattito anche in virtù se avete voglia di andare a sentire del bel episodio di what we coin did di peter mccormack che ha ospitato giacomo zucco john carvalho e matt corallo proprio su questo argomento dell'ossificazione che sarà sempre secondo me per almeno i prossimi 20 30 anni cioè per la nostra generazione di bitcoin sarà al centro della della questione proprio perché ci sono diverse proposte adesso io vi ho raccontato una proposta sulla quale ovviamente tutti sono convenuti automaticamente è un'attivazione che è stata rapidissima questa qui del 21 milioni che sarebbero tornati sarebbero ripartite all'inizio ma nel caso di cose invece più controverse il dibattito è ovviamente più lungo più articolato e quindi era per farvi capire che anche in tempi non sospetti su regole fondamentali come i famosi 21 milioni ci fu un intervento ci fu un dibattito e ci fu una proposta di modifica bello bello della rubrica mamma mia mamma mia sono tutto un brivido sulla pelle d'oca guarda mi si è accaponata la pelle caro gaibras cari amici guardiani del tempo mi chiedo quanti di voi saranno arrivati alla fine di questo primo nuovo pazzo episodio del bip show sesta stagione quanti di voi ci stanno ascoltando per la prima volta sicuramente tanti perché cresceremo quest'anno gaibras e molti ripartiranno da questo episodio dal primo della sesta stagione se vi rendete conto di avere delle lacune ragazzi sul nostro sito internet www.bip.show c'è la funzione cerca la potete utilizzare per inserire delle parole chiave che ne so mining liquid lightning e trovare esatto esatto e chi più ne ha più ne metta e trovare quindi tutti gli episodi della nostra ormai lunga storia dove abbiamo parlato e approfondito quegli argomenti quindi non fatevi scoraggiare nel vostro viaggio di scoperta andate a recuperare i nostri vecchi episodi perché abbiamo parlato più o meno di tutto ormai sono tanti anni www.bip.show è anche il sito dove chi ci segue lo sa c'è la sezione supportaci dove ci potete quindi supportare condividere con noi la nostra missione lasciami dire una cosa gaibras che è un po' che non lo diciamo un altro modo utile per supportare il bip show è lasciarci una recensione adesso sia spotify che apple podcast lo ha sempre fatto consentono di lasciare una recensione su spotify solo le stelline su apple podcast invece potete proprio scriverci che cosa ne pensate mi raccomando votateci lasciateci 5 stelle guardavo l'altro giorno mentre chiudevo facevo i vari wrap della quinta stagione mi preparavo alla sesta mi ha impressionato gaibras perché siamo a 400 e rotte recensioni su apple podcast e digitalia che esiste da 15 anni e sono i miei maestri ha meno recensioni di noi e questo è incredibile quanto siamo questo ti dà la lunghezza d'onda del piccolo miracolo di popolarità che è stato il bip show perché loro sono un podcast molto più generalista del nostro molto meno di nicchia eppure pian pianino quatti quatti siamo diventati più grossi in termini di audience e probabilmente più recensiti e questa cosa ci inorgoglisce tantissimo perché per me loro sono davvero dei maestri quindi se avete un iphone ascoltateci su apple podcast e già che ci siete ragazzi lasciateci una recensione giusto il tempo gaibras di ringraziare il mecenate del primo episodio della sesta stagione non è una novità è già stato mecenate no infatti ti ringraziamo tantissimo divoc per la tua donazione lightning 200.000 satoshi sei stato il più generoso di questa settimana e quindi anzi di questo ultimo periodo e quindi a te l'onere e l'onore di ricevere il titolo di mecenate che consta sì nella nostra gratitudine ma soprattutto nel vedere il tuo nickname scolpito nel travertino digitale delle note dell'episodio del primo episodio della sesta stagione del bitcoin in italia podcast caro gaibras sai che cosa c'è no non so niente io dopo sei stagioni incredibilmente non so cosa c'è prima stagione seconda stagione terza stagione quarta stagione quinta stagione e ora sesta stagione me valle verga amico mio perché la nostra direzione è sempre la stessa lo sai qual è no devo dire che comincio a farmi un'idea ciao 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 ciao